Buongiorno Notizia. Sono le 9.32, buongiorno Notizia, è il momento di accogliere e salutare la nostra ospite di oggi, Aida Fazio, presidente dell'Associazione Italiana Persone Down, sezione di Catania. Buongiorno e bentrovata. Buongiorno anche a lei. E allora parliamo di un appuntamento importante perché parliamo del Down Tour che arriva a Catania, è un evento a livello nazionale partito da Roma, ha percorso tutta l'Italia, adesso fa tappa a Catania il 13 e 14 luglio, c'è una coda anche il 15 luglio in piazza Università per sensibilizzare e far conoscere chi sono le persone con sindrome di Down tramite lo sport, l'arte e tanto altro, insomma un evento importante. Sì, sì, è veramente importante ed è in occasione dei 40 anni della fondazione dell'Associazione Italiana Persone Down. Tra l'altro fondazione, l'ha fondata lei l'associazione? No, no, no. A Catania? A Catania l'ho fondata io. Ecco, infatti. La fondazione nazionale è stata fondata nel 79, quindi i suoi 40 anni e abbiamo organizzato tutte le sezioni ma soprattutto l'IPD nazionale che crede ancora intensamente nella possibilità di estendersi e di dare quanto più possibile aiuto e supporto a tutte le famiglie d'Italia e ha creato questo evento che tra le altre cose è iniziato con un down tour. Down tour è partito da Roma, ha percorso gran parte dell'Italia, 37 sezioni su 56 vengono coperte. Sì, sì. La tappa prima di noi è a Reggio Calabria. Il camper arriverà a Piazza Università alle 5 del pomeriggio del 13 di luglio e comincerà la festa. Il down tour ha un forte messaggio. Infatti noi daremo delle pillole, delle compresse, ci saranno offerte naturalmente con un piccolo contributo delle pillole per guarire quella che noi chiamiamo malattia. La sindrome di down è una condizione genetica. L'unica malattia è l'indifferenza, l'ignoranza e quant'altro. Queste pillole sicuramente prese con grande coscienza potranno aiutare a guarire le persone guardando negli occhi i nostri ragazzi e facendo in modo che loro siano presenti, presenti qui nella città di Catania, ma presenti come cittadini protagonisti. Ecco, per quanto ha detto prima è particolarmente importante comunicare questi messaggi. Serve proprio questo l'evento, la manifestazione. Serve a far conoscere all'opinione pubblica che è spesso, tra virgolette, ignorante in materia. Infatti, l'ignoranza è la malattia più brutta. L'ignoranza è quella che ci porta a fare tante cose che noi magari, se fossimo a conoscenza di, potremmo evitare di farle. Anche perché grandi cose sono state realizzate da soggetti down, con sindrome di down. Ma sicuramente, ma sicuramente, in tutta Italia. Adesso, per esempio, l'altro giorno leggevo di un ragazzo down che ha preso la patente, però il messaggio non è questo. C'è un messaggio, come in tutte le cose della vita, ci sono le eccellenze, c'è la normalità, e ci sono le persone che hanno bisogno di essere aiutate. Comunque, tutti hanno bisogno di essere aiutati, anche gli eccellenti. Perché la sindrome di down è una condizione genetica che porta ad essere, in maniera particolare, porta ad essere aiutati. I ragazzi, le persone, gli adulti, i bambini, soprattutto i bambini, perché crescendo i bambini, possano crescere ed educare questa società, ed educare i genitori. Vede, noi siamo adulti, noi siamo grandi, noi abbiamo fatto un percorso. Noi puntiamo molto sui giovani, sui giovani, sui giovani genitori, perché a loro consegniamo poi la chiave per poter continuare questo percorso. Quindi una sorta di testimoni del messaggio, no? Infatti, testimoni. Tra poco, con Aida Fazio, presidente dell'Associazione Italiana Persone Down, sezione di Catania, torneremo a parlare del programma del Down Tour, che sarà ospitato a Catania dal 13 al 15 luglio. Parleremo anche dell'attività svolta dall'Associazione Italiana Persone Down, che è particolarmente attiva a livello nazionale e a livello provinciale. Quindi, restate all'ascolto. Buongiorno, notizia. Sono le 9.55, in studio con noi ancora Aida Fazio, presidente dell'Associazione Italiana Persone Down, sezione di Catania. Con lei stiamo parlando di Down Tour 2019, l'appuntamento che vedrà protagonista Catania dal 13 al 14 luglio, con una coda anche il 15 luglio. Tra poco parleremo del programma. Intanto, presidente, vogliamo citare lo slogan che è stato scelto, che è molto bello. Da 40 anni combattiamo un'unica malattia, il pregiudizio. Da cosa nasce questo messaggio? Esatto, perché il pregiudizio è la malattia più grande, quella che non ci fa andare avanti, quella che ci spinge indietro, quello che porta le persone a guardare delle cose, non guardare la sostanza delle cose. I nostri ragazzi hanno bisogno di essere guardati per come sono. Nelle loro limitazioni, loro sono grandi, sono meravigliosi, come tutti noi, perché chi può dire di non avere delle limitazioni? Certo, appunto. E allora, parliamo del programma, perché abbiamo incuriosito tanti nostri ascoltatori. Il 13 luglio, dalle ore 17, le diceva, si inizia in piazza Università. Sono previsti tanti appuntamenti già dalla prima giornata. leggiamo animazione e giocoleria, poi ci sarà attività motoria adattata, propedeutica all'atletica leggera, ed anche indoor rowing, con esibizione di gare individuali a staffetta. Allora, sì, giocoleria. Noi siamo nello Special Olympics. I nostri ragazzi sono dentro lo Special Olympics. Siamo squadra olimpica. E porteremo in piazza nove macchine, nove remergometri. Questi remergometri ci sono stati donati circa sei anni fa dai Rotari, da quattro Rotari, che hanno creduto in noi e che hanno pensato bene di avviare questa attività sportiva facendo in modo che i nostri ragazzi si, alla pari con gli altri, potessero gareggiare. E questo lo facciamo alla palestra Ultimate, dove noi abbiamo queste nove macchine posteggiate e in accordo con la palestra abbiamo la possibilità di far fare ai ragazzi down rowing, non pagando l'ingresso alla palestra. Allora, noi siamo Special Olympics. Ci sarà una gara importantissima. Verranno da Pachino, è una gara indoor e siamo anche molto conosciuti a livello nazionale. Abbiamo vinto una medaglia d'oro in Italia, una medaglia d'argento in Europa. Che dire? Veniteci a guardare, venite a vedere cosa sanno fare i nostri ragazzi, cos'è il remergometro e il canottaggio da palestra sono delle macchine che servono come se si remasse. Abbiamo anche due barche, speriamo questa estate di scendere in acqua. Per completare poi il programma, il 14 luglio, sempre dalle ore 17 in piazza Università, ci sarà ancora la sensibilizzazione, poi una mostra di dipinti, un aperitivo con finger food e anche uno spettacolo teatrale. Poi il 15 luglio si conclude il tutto al Cinema King alle ore 21 con la proiezione del film Daphne che vede protagonista una ragazza con sindrome di Down. Parlavamo dell'associazione, Presidente. La vostra associazione è particolarmente attiva a livello nazionale, ma anche a Catania siete tanti, fate tante attività. Ecco, ci racconti di voi. Allora, innanzitutto partiamo con i piccoletti. Progetto per i piccoli che è nato l'anno scorso. Prendiamoci per mano e cresciamo insieme. vede questi bimbetti piccoli dai due agli otto anni insieme a un pool di pedagogisti a cui capo è la pedagogista clinica Benedetta Tambone e farsi avanti in questa società. Ci sono le prime autonomie, ma si parla della lettura e della scrittura. Il progetto è molto bello, prestigioso. Il Presidente nazionale è stato entusiasta e lo vuole esportare anche nelle altre sezioni perché è il primo in Italia. Continuando, a settembre cominceremo con un corso di educazione all'autonomia completo di tante sfaccettature facciamo teatro da 16 anni i nostri attori sono i Bagnati di Luna lo spettacolo che si terrà è un piccolo assaggio di quello che faremo a settembre abbiamo partecipato a tre festival internazionali di teatro 92 repliche di un lavoro molto ma molto importante quindi questo è il teatro lettura e scrittura creativa facciamo anche quello non vorrei dimenticare altre cose però insomma non avete tempo di annoiarvi questo è sicuro no assolutamente no 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 assolutamente e allora noi oggi abbiamo dato un assaggio di quello di quella che è la vostra realtà abbiamo parlato di Down Tour 2019 che sarà ospitato a Catania dal 13 luglio ma per quanti sono interessati a entrare in contatto con la vostra associazione ci sono anche delle pagine social delle pagine internet possiamo ricordarle certo su facebook siamo presenti ma siamo presenti anche sul sul sito IP di Catania la nostra sede è in via Galermo 124 il nostro telefono è 095 4141 4191 e in questo momento diciamo che noi finiremo finiremo a fine luglio l'attività diciamo andate in ferie e poi ricominciate a settembre a settembre tutto agosto ci fermiamo però io sono anche molto conosciuta per cui molti hanno il mio numero di telefono non lo do qui in radio perché non sarebbe carino però per quanti hanno perso quello che abbiamo detto ricordo c'è la possibilità di rivedere questa intervista tra poco tra poche ore sul nostro sito internet studionavantiitalia.it può essere condivisa anche attraverso i social noi intanto vogliamo ringraziare Ida Fazio presidente dell'associazione italiana persone down sezione di Catania per averci parlato di questa bella iniziativa per essere stata qui nostra ospite l'aspettiamo prossimamente volevo solo dire in finale siamo veramente bravi permetteteci di aiutarvi perché è giusto è giusto per noi che amiamo i nostri figli è giusto per i ragazzi perché hanno bisogno di stare insieme grazie ancora e a presto grazie buongiorno notizia prosegue restate con noi l'ultima mezz'ora grazie